Non è proprio rimasto Non è che l'abbiamo proprio azzerato Ragazzo Ci mettiamo qui E ora lo carichiamo Fatto male Lo pusciamo proprio Vai 77 Va bene A posto Spento Va benissimo Comunque il fucile d'assalto potenziato Tanta roba Sta migliorando un sacco Voglio vedere poi i blue blood con le pistole potenziate Che fanno fai buco La finice grigia sta uscendo nell'atrio Buone notizie Offro uno snack in premio A chiunque si faccia sparare per primo Sta incoraggiando i tuoi compagni a farsi sparare In cambio di patatine alla barbabietola? No Gli do un incentivo per schivare Patatine alla barbabietola Ok no thanks Ultima unità che passa Ricevo un puntazione aggiuntiva Ok Non so se metterci verge o blue blood Non so se ci metto verge Pai verge Dopo lo curo pure verge Qua ce ne stanno un paio Dominatore Paladino Pretoriano Legionario Aspide Pitone A me piace quel dominatore lì 5 danni Ve lo facciamo secco quello A casa Berserker Paladino Vai 99 Shotalo L'ha rotto? Non sa che no Ahia Viscio Graffio Fantastico Siamo proprio super tranquilli A livello di cure Due round per raccogliere le prove Croccante Peccato che non riesco a tirarla in fondo Perché se riuscivo a tirar lì Erano bei danni C'è sto aspide della menga Che deve fare il turno Converge Non riesco a ucciderlo Forse Forse riesco a fare il predore Il legionario Quaggiù Forse Forse Lancio una granata al plasma Dovrebbe riuscire a ucciderlo Con un po' di cose 61 Proviamo il 61 Che schifo E questo me lo spezzi L'altro nemico ha battuto Liscissimo E lui si cura pure Ferpetto A me preoccupa Quel pretoriano Là in fondo Io li stordisco Questi La rischiamo qua Senza cover Materiale di contrabbando Quello è stordito Non è vero Non lo è Ok Non capisco Quando lo stordisce Per un turno In realtà Poi non stordisce Nulla Ma va bene così L'ha ucciso Molto molto grave Uccidiamo questo Questa volta è stata colpa mia Eh si Hai fatto cagare forte Adesso Berserker Da una cricca a Thor Che le spezza la schiena E calla Meno male Che situazione di merda Eh ma c'è ancora quel pitone Però Ok Ok Va bene Va bene Non è andata poi così male Non mi vengono i libidi Devo darci uno sguardo Ehi Puoi farcela Non c'è che gli finisce lo stesso il turno Quando c'è un'azione e basta No? Non gli finisce Questo qua Famolosetto Nice Due secchi Attimo Vediamo se riesco a fare impazzire il pretoriano Basta che non lo faccia a noi Dovrebbe levarsi dalla presa Ok ottimo Il nostro amico pitone Riesce a fare le sue cosine Pito pitons Copro la distanza Pretoriano è il numero due Spara a questo Uno di vita E muore col fuoco Questo potrebbe essere potenzialmente ancora pericoloso Che ha fatto? No eh Eh Troppo vicino Ma da quella distanza Zio mio Quattordici danni gli ha fatto Ok Che è l'ultimo colpo del caricatore suo Che fa i botti Rippa Rippa Muriamo qua Quattro HP secchi Fantastico Ci proviamo Lo colpiamo Gli abbiamo ridotto pure l'armatura Easy Non è colpa tua Non potete occorre resistenza Che uomo Puratina di Verge Che si fulla No Ah si 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 Eh infame questo qui Comunque messo là dietro C'ha mille di armatura C'ha ma tre di armor Qualcosa del genere Vediamo che devi fare Ma che devi fare Fa il duello Bene Non sai fare di meglio Ah 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 Vai spara A casa Ok Se andiamo al terzo combattimento Ci andiamo proprio tranquillissimo Questo appartamento è fortificato Deve essere una delle loro basi Si preparano per l'ultima battaglia Non ci daranno tregua Li sventreremo Li sventreremo Allora la prima unità che passa da qui Viene immobilizzata per un round Entrare qui Marca le unità Io preferisco questo qua La prima unità Rimane immobilizzata Ah vai con Verge Tanto Verge ha un sacco di range Proprio easy piece Adesso entriamo Questo esplode Questo esplode però Brutto Brutto Brutissimo Qua c'entra brutto Quel mancato Tre danni di graffio Quel mancato Non ci voleva proprio Però vabbè Allora la vendata Uno Tre quattro Cinque Sette Facciamo impazzito Troppo Ha anche fatto l'urletto Vai Però cazzo L'amico tuo lo potevi seccare Quel soldato lì 85 lo leviamo Non lo leviamo Eh si ragazzi State flopando tutto Qua Vedete un po' Che dovete fare Mi muovo verso il bersaglio Che fanno questi Che fanno questi What 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 E' impazzito Impazzito Completamente Completamente impazzito Signori Io prima di fare Qualsiasi cosa Butto un bel venuccio Lì giù Così quello ripa E chiunque passi qui E' costretto a A fare Cosa Vediamo Facciamo una guardia Siamo stragoperti qua Sono loro che devono venire Tanto Non bucano i muoi Serve un aiutino Non te l'ho chiesto io Sai che credo che in origine Forse c'era una porta qui in origine Che il gioco sta Sta tutto mangiato C'è sta capina mazza Al gioco Perché se no Non si spiega Non stanno facendo Il giro giusto Si muovono sparo Mi sento più sicura Eh aia E' brutta Con il graffio addirittura Tutti quei danni Con il graffio Ok Vediamo questi un po' Brutti Brutti Forse perché c'è il veleno Non ci vogliono Passa sopra Può essere Sono così intelligenti Io ci credo poco Che siano così intelligenti Sparo Se si spostano O bucano il muro Sarebbe divertente No ci stanno Anche a piena sega Questi Ma veramente Gli stunni Psicologicamente Così col veleno Cioè diventano Proprio Completamente Rincoglioniti Sono pronta Per i nemici E me sa Sto andando Ce la vanno qua Niente Ce stanno più dentro Voglio capire un attimo Se è il veleno O meno Voglio vedere Quando è che finisce Questo è curioso Sparo a tutto ciò Che si muove Ce la vanno più Non ce la fanno più Vorrei che poi Arrivano rinforzi Perché Continuiamo a puntare Un attimo Vediamo che succede Quando se ne va Il veleno Ricarichiamo tutto Secondo me Non si muovono A prescindere Questi Stanno tutti Avvicinati Ma dove vai Ma dovete avvicinare Come fa un sorso D'arco Intanto Sti spasmi umani Non abbiamo Neanche limite Di tempo Qua tra l'altro Quindi È partito Che fa Madonna Complimenti Niente male È stato È stato valido Come colpo Niente niente male Ragazzo mio 66 Facciamo 100 Più fiamme Più armatura ridotta Più tutto Sono proprio full Ritardati Questi qua Al mancimento Da qua Hanno deciso Che il veleno Si può passare Secondo me C'era una porta Qua E questi pensano Che c'è la porta Cioè L'unica L'unica spiegazione È quella Veramente Sono comunque In vantaggio E che altro Spero che non arrivino Rinforzi Ma non credo Dobbiamo solo Pugli Dai Questo Mo' avanza Se prende 45 guardie In faccia Le munizioni Finiscono Troppo presto Il veleno Pure è finito Oltre Pronta a sparare Quindi mi sa Che non era Proprio il veleno Vediamo Il prossimo turno Che succede Ce la fa Vai Sparate in dieci Questo però Non ci sta Ancora a capire Chi mi sa Che buco Con una granata Buco Almeno Li fanno fuori Questi Sennò Stiamo Stiamo qua Per un anno e mezzo Colpisco pure Termine Al massimo Ma che ne frega Almeno Posso Curarmi Da Sì Sì Termina Non so Perché C'è un doppio turno Ma mi va Benissimo Così Potresti Sentire Una Leggera Puntura Perché Non si è Avvelenato Quel Cosa Credo Termina La voglia Fare Dal Bersaglio Infatti Mi sa Che la Metto Un pochino Indietro Tanto Sto Cosa Ci deve Caricare Per Forza Se vuole Venire Addosso Invece Non Si sa Ancora Non è Chiaro Quello Che Vuole Fare Però 8 Danni Se Abbastanza Da Morire No Ragazzi Ma che Cazzo Stanno Facendo Sti Cosa Vabbè Uccidio Polizia Polizia Open up Abbiamo Vinto Abbiamo Vinto Abbiamo Smantellato Un'altra Base Fortificata Che poi Qua era Proprio Un appartamento Questo qua Non era Neanche Una base Era Un Vile Appartamento Grazie Direttrice Gelli È Assaltato Un gruppo Di Appartamenti Trasformati In Un Rifugio Fortificato Questa Operazione Ci ha Permesso Di Localizzare Smantellare Le restanti Roccaforti Della Fenicio E Grigio Attenzione Il Consiglio Cittadino Ha Convocato Una Seduta Di Emergenza La Fiducia Nella Centrale 31 E Ai Minimi Storici È Colpa Della Fenice Grigia Siamo Una Crema Siamo Ma Se ci sono Ripercussione Vi farò Sapere Ah Eliminare La Fenice Grigia Così Secco Qua Che ti Dà Tra L'altro Capabile Fuffa La Fenice Grigia Nello Spazio Porto Della Città Se Riesce A Far Partire Un' Astronave Potrebbe Causare Una Distruzione Immensa Spaccamo Tutto Whisper Spaccamo Tutto Tieni Ricompense In realtà Non ci abbiamo Neanche Situazioni Ci abbiamo Solamente Missioni Questa Qua D'emergenza Ma dobbiamo Fa questa Tanto Sono tutte Due Rosse Sia Questa Che Questa Che Questa Quindi è Meglio Che ci Spicciamo Voglio Mettere Fuck Stanno Facendo Tutti L'addestramento Se no Mettevo Godmother A fare Il controllo Del Panico Vabbè Andiamo Credo Che Questa Sia L'ultima Delle Ultime Missioni Può essere Lo Scopriremo Presto Comunque C'abbiamo Questo Party Di Sparatori Pure Che non è Niente male Che sparano A manetta Senza gente Che dà pugni La fenice grigia Ha già rifornito Di carburante L'astronave Sta per unirsi Alle astronavi Gemelle All'esterno Una formazione Potrebbe infliggere Gravi danni Alla città 31 Impeditegli Di decollare Detto Fatto Amico Mio Vediamo Un po' Allora Possiamo Ci sono Meno nemici Ci sono nemici Meno aggressivi L'ultima unità Fege più 3 danni Allora Facciamo Così E qua ci mettiamo Lui Col più 3 danni Entriamo 2 e 2 Vai Vediamo che succede Questa mi ricorda Molto XCOM 2 Questi Questi asset Qua Le porte Oh Oh Shotala Per favore Però l'ha lasciato Veramente Bassino Quello In fiamme Quindi è morto Mi prendo Il dominatore Di là Ha sciolto Son botto Son botto Son botto Però l'abbiamo chiusi Proprio Benissimo Ottimo Ottimo L'abbiamo Veramente Veramente Chiusi Duello Felice I nemici Di lanciare Ok Non sarà Facile Questa missione Già ho capito Ti provo un po' A scioltar Questo Oh Bello Le vado Dai Coglioni Poi Quanta roba Possiamo Colpire Qua Ullala Così 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 No C'era Un modo Per colpirne Tre Mi piace Così On point Facciamo collaborazione Su di lui Lo mettiamo Sopra Ce la facciamo A colpire Più cose Con una granata No Mi sa di no Sì In realtà Sì Ce la facciamo Vai Lancio una granata Al plasma E poi Dai 81 Fai fuori Sto numero 3 Taci tua Però ecco Cazzo Hai detto bene Amica Hai detto Proprio bene 37 What Perché Che cazzo Perché c'ha 37 Vai Vai Steroni Pericolosamente Efficiente Lui si va A mettere qua Mica Che culo Che culissimissimo Granata Al plasma Nemici Multipli A terra Attraverso Coraggio Sfogati Poteva fare Di meglio Vabbè Comunque questo Tira una bella Botta A terminal Ah Peccato Perché a terminal Gli sarebbe Piaciuto Tantissimo Ehm Mettiamocelo qua Striscio Ma sbaglio O no Ecco fatto Ce l'ho 10 What What Perché Cazzo Ma perché Non funziona Visto Un disco Tutti Visto Un disco C'è da veleno Ti Ti Questo si sposterà Questo si sposterà Corro Passo costante Sai che lo segra uguale Meglio a te che a me Però per sicurezza La copertura totale non c'è più amico mio Abbiamo un attimo Un attimo infilato nel muro Ehm Quest'uomo qua Ma che ha rotto What Eliminato un nemico Direi che è andata benissimo Che sta succedendo Escavatore Per cavare gli occhi I tuoi Se non ce lo dici Subito Va bene Salti Durante l'invasione Lo spazio porto Era una nave Per il trasporto Della flotta L'escavatore È la trivella Al plasma Che ha sotto L'escavatore Fece un grosso buco Nel terreno La nave Per il trasporto Della flotta Atterrò E Voila Uno spazio porto Prefabbricato Se lo attiva La fenice grigia Potrebbe far saltare In aria Tutto lo spazio porto Perciò Non è un mega Robottone Tipo un metal gear Ok Meno nemici aggressivi L'ultima fa più tre danni Ok Bam Bam Ah What Ah non abbiamo più schede Vabbè Passiamo da qua Allora Ah C'è il custode Axel Non se ne parla Noi vi E ha interrotto Il collegamento Quindi abbiamo finito Col sedano Va Let's Go 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 Paladino 100% 77 Vabbè Scani Ripiglio volentieri Vai Sciotta Va Perfect Dominatore 69 Facciamo 99 Va E vai E sciotta Va Col 70 68 2 down Lo rimasta 1 1 2 3 4 5 Più gente E là dietro Se può fa' Comunque 5 Nesta Usa la console Per disattivare Per disattivare Il campo Di forza Ma tipo Con campo Ah ok Dobbiamo farlo Prima che Non croccante Non l'ho scrocchiato Non l'ho scrocchiato E' rimasto Veramente a 1 Che schifo Che schifo Ma anche Morso Non so perché C'ho 69 Di possibilità Di coltire Trovo una buona Visuale Altro colpo Che sfiga Che sfiga Cavolo Su 4 colpi Solo la metà Ne ha presi Col 70% Avrebbe dovuto Colpire un po' De più Vabbè Qui abbiamo Un sacco De danni Signori Nen'è vero Perché Torque È incolpibile Questo mi scoccia Che è rimasto Vivo No Quell'altro Pure l'aspi Vabbè Dopo facciamo La cura Dei gruppo Ma ancora in piedi Ma che cazzo Mettite qua Un po' Che 91 Va bene Taglia Ma non è morto Col fuoco Quei What Scusi Sono Bruciato Instant Dobbiamo Sbloccare Quei cosi Prima che Arrivino Iniziano Da arrivare Rinforzi All'infinito Tra l'altro Aia Nessun danno permanente Non morire Dai Nessun danno permanente Però un sacco Di danni In generale Chi è il 2 Che sta per Fare il turno Quello là in fondo Non si può uccidere Ah potevo Merda Pensavo che non Mi interrompesse Il turno Non si può uccidere Non si può uccidere Vabbè Non si può uccidere